E mi scriva? Ok Oh, dove cazzo stanno? L'Inter? Nell'Inter ci sono le donne, no? Ah, eccole qua, vaffanculo America, ok, America America contro Germania, giustamente Ah, non posso fare femmine contro maschi Sarebbe stato sicuramente una figata Ok Blu? Dai, blu mi piace, nazionale americana Aiuto il Kinect di esprimere nel menu principale Ma io voglio togliere il Kinect, mi sta sul cazzo Come si fa a togliere? Leva il Kinect Xbox distrugge il Kinect